Buongiorno a tutti, come sapete capita che alcuni editori ci invino in anteprima dei libri. Eccolo qua, quello che mi è arrivato oggi è Siamo scritti a matita di Fausto Brizzi, che uscirà il 2 maggio. Legata al libro c'è una lettera scritta dall'autore e voglio condividerla con voi. Cara libraia, caro libraio, nel 1975 in un tema di terza elementare scrivevo che da grande avrei fatto il libraio. In quegli anni passavo tutto il tempo libero a leggere romanzi. Ero stato vittima di un esperimento scientifico delle mie numerose prozie, le cinque sorelle di mio nonno, tutte maestre elementari, e le quattro, anche se maestre, di mia nonna, giuro è vero, che mi avevano insegnato a leggere e scrivere tra i 3 e i 4 anni. Ora che non ci sono più da tanto tempo, ancora li ringrazio. Probabilmente mi hanno cambiato la vita. Or dunque, il mio sogno era fare il libraio, perché per me ogni libreria era un paese dei balocchi di carta. Col tempo capì di non avere il piglio imprenditoriale che serviva per gestire una libreria e ripiegai così sulla scrittura. Diventai, insomma, un fornitore. Ho scritto per tutta la vita. I film girati come regista li ho sempre considerati una piacevole divagazione dal mio mestiere principale di scrivere di libri e di film, miei o altrui. E per tutta la vita ho continuato a entrare nelle librerie come un attento esploratore, convinto ogni volta di trovare quel libro che avrebbe cambiato per sempre il mio modo di pensare. Siamo scritti a matita e un inno al piacere della lettura su carta e a quel piccolo e coraggioso manipolo di guerrieri che ancora resistono all'assalto dei pixel, i librai. La resistenza che si oppone all'impero. Voi siete i miei eroi. Ognuno di voi è un Luke Skywalker che si oppone strenuamente alla deriva tecnologica. E se qualcuno sta pensando che questo sia soltanto un banalissimo modo per ottenere la vostra benevolenza, lo invito a prendere un tè a casa mia. Certamente la casa privata più piena di carta di Roma. Una casa invasa da libri e fumetti, una patologia che non fa male a nessuno, come dice sempre mia moglie Silvia. Sono un lettore compulsivo, in particolare di gialli e fantascienza. E un accumulatore seriale, lo ammetto, tutta colpa dell'imprinting delle mie benedette prozie. A proposito, erano tutte zitelle. Nove zie zitelle che vivevano a Palermo, tutte insieme in due grandi case. Un giorno dovrò raccontarla questa storia. Tutte queste chiacchiere per dire che il mio nuovo figlio letterario da oggi è nelle vostre mani. Spero che lo amerete e lo coccolerete come fosse vostro. E' la storia di due librai speciali, Alfredo e Betta, e del loro grande amore. Pagine colme di spie, avventura e sentimenti. Conto sul vostro sostegno, ma se così non fosse, pazienza. Continuerò a entrare comunque in una libreria con gli occhi di quel bambino che sognava di aprirne una e possedere tanti, tantissimi libri. Anche nelle giornate piovose in cui nessuno si avventura nel vostro negozio, ricordate sempre che il vostro è il mestiere più bello del mondo. Nell'incipit del romanzo dico che è il secondo, ma se lo leggerete fino alla fine capirete perché. Voi infatti diffondete la più piccola macchina del tempo che sia mai stata inventata. Il libro, con affetto e invidia, Fausto Brizzi. Mi ha messo tanta curiosità, spero anche a voi. Quindi ci vediamo dal 2 maggio in libreria.